Piacere che ospitiamo ancora nel nostro studio un amico, un grande giornalista, un grande direttore, Andrei Vianello! Ciao Serena, salve a tutti! Ben trovato, siamo già in climatismo magico! E beh, sai, un po' di letteratura barra figlia... Diciamo, mi dovevo ispirare a qualcuno e mi sono ispirata a Garcia Marquez! Vabbè, sai, io ho studiato letteratura del Sud America e quindi, diciamo, è entrata dentro di me. Perché realismo magico? Perché c'è la parola immaginaria nel primo romanzo di Andrea Vianello, c'è sempre la prima volta. Emozionato? Sì, molto! Sai, era il sogno della mia vita, io lo volevo fare fin da ragazzino, quindi, diciamo, ci ho messo un po' più di tempo. No, peraltro poi... A 61 anni ce l'ho fatto. E mi sembra, infatti, guarda, non è mai troppo tardi, nel senso, inseguite i vostri sogni. Storia immaginaria della mia famiglia, che poi è tra la professione, diciamo, nostra, tua, tu sei anche direttore, però, insomma, è il lavoro dello scrittore che invece è puramente intimo, mentre questo lavoro è un lavoro di super relazioni. Ecco, c'è una differenza enorme. Come convivono queste due anime dentro di te? Non lo so neanche io, sicuramente hai ragione, peraltro, insomma, io ho iniziato questo libro poco prima di diventare direttore, prima di Renews24, poi adesso di Radio 1, e è chiaro che durante la settimana sei sempre sul pezzo anche del, come dire, come dici te, dalla parte del pubblico. Poi invece devi riuscire a ritragliare una parte molto intima, chiuso in un piccolo studietto che ho a casa, piccolo piccolo, e dove, come dire, arriva un'altra persona che è un altro pezzo di me. Senti, hai dovuto rompere anche un blocco autogiudicante per lanciarti nell'immaginazione del romanziere? Sì, moltissimo. Ripeto, guarda, veramente, io da ragazzino volevo fare lo scrittore, però non potevo dirlo, mi sembravo un po', come dire, un bambino, no? Allora dicevo che volevo fare il giornalista, e a forza di dirlo, l'ho fatto, l'ho fatto, e questa cosa però, poi ho iniziato a parlare, ho parlato, ho parlato, ho parlato, e non ho scritto, ecco. Poi sai che c'è stato un periodo un po' bruttino nella mia vita, che abbiamo raccontato un po' di tempo fa, e questa cosa mi ha spattato. Cioè, Dianella ha avuto un ictus, questo dobbiamo, diciamo, per i pochi che non lo sapessero, ho scritto un libro, ho avuto un ictus e ho perso le parole, che erano proprio esattamente. Quindi le hai dovute rimettere insieme. E soprattutto questa cosa mi ha permesso, con l'altro libro che ho scritto, di dire, ma è questo, finalmente lo posso fare, e non posso rimettere tutto dentro, bisogna continuare, e quindi avevo questa idea di questa storia, che poi è diventata un romanzo, e ho detto proviamoci. E peraltro poi, diciamo, qualunque, la cosa interessante di questo libro, perché appunto è storia immaginaria, tutte le storie delle famiglie sono un po' immaginarie. Quando si legge un libro che racconta la storia delle famiglie, è un libro che parla anche di noi, no? E che parla anche delle famiglie che avremmo voluto avere. Che cosa hai scoperto su te stesso, raccontando la storia immaginaria della famiglia? Eh, io appunto ho creato un'altra famiglia, che non si chiamano Vianello, ma si chiamano Zennaro, che però casualmente è lo stesso cognome della stessa isola da cui vengono i Vianello, che si chiama Pellestrina. Qua c'è anche un nonno futurista, no? Un avofuturista, un poeta futurista. C'è un nonno poeta futurista, proprio come il mio, c'è un ottico che ha fatto la resistenza borghese a Roma, un po' come il mio, però poi questi personaggi hanno creato e si sono liberati in un'altra nuova vita, con destivi e anche con storie che non sono tutte vere. Chiaro che qualcosa è vero, qualcosa non è vero, ma come hai detto te, tutte le leggende, tutte le voci, tutti i nostri ricordi in realtà sono un po' immaginari. E mi sembra, ed è così, i tuoi l'hanno letto il libro? Sì, i miei genitori purtroppo non ci stanno più, anzi, mia mamma a cui l'ho dedicato. Una bellissima famiglia, Francesca. Francesca l'ha letto, a lei è piaciuto molto, però insomma è un po' di parte, no? E quindi non è detto che sia un... Esatto, senti, rivediamo uno dei momenti più importanti della tua carriera giornalistica, stiamo parlando di quando per la radio dovesti annunciare la strage di Via D'Amelio. Sì. Interrompiamo nuovamente i programmi, in studio Andrea Vianello, il giudice Paolo Borsellino, procuratore aggiunto di Palermo, è morto. È stato ucciso questo pomeriggio nel capoluogo siciliano, in un attentato di Namitardo, un'autobomba esplosa nei pressi del cortile del palazzo, dove abitano la madre e la sorella del giudice. Si parla anche di altri morti, sarebbero quattro, compreso il giudice, i morti rimasti sulla strada di Palermo di questo nuovo attentato di mafia. Decine i feriti. Sì. Insomma, questo è un ricordo molto forte per me, perché appunto io ero in redazione in quel momento lì, ero stato già a Palermo quando era morto Falcone. E casualmente ero in turno, ero un giocatore redattore della radio. E in quel momento è arrivata l'agenzia, la prima agenzia, all'epoca erano così che arrivavano le notizie. E ho preso, l'ho stampata e sono corso in studio a dare questa notizia. E poi subito dopo ho condotto il GR della sera e poi ho preso un aereo e sono stato a Palermo tutta quella notte a lavorare purtroppo, a prendere i ricordi e ho trovato questa Palermo torrida e disperata, che non dimenticherò mai. Questa è un po' forse l'esperienza del lavoro che mi ha dato un'emozione talmente forte che non posso dimenticarla. Che poi questo lavoro, tu adesso recentemente sei stato anche a Leopoli, no? Quindi diciamo, subito dopo lo scoppio della guerra, da una parte il cinico non è adatto a questo mestiere, diceva Kapuscinski, no? Dall'altra dobbiamo essere iperrazionali e iperdistaccati anche, perché altrimenti se l'emozione prende il sopravvento non siamo in grado di trasmetterla con l'emozione di quello che è avvenuto al pubblico, abbiamo un dovere di razionalità, no? Tu come la gestisci? Allora, io penso che hai ragione, naturalmente noi non possiamo troppo essere coinvolti, però se non c'è emozione in quello che raccontiamo non arriva. Cioè quindi il fatto di stare appunto in quella posizione, quando appunto sono andato all'inizio della guerra in Ucraina, sono esperienze che secondo me bisogna trasmettere anche con l'emozione. Questo non vuol dire perdere la nostra professionalità, ma vuol dire avere, come dire, insomma un'anima. Ecco, cioè anche le notizie hanno un'anima, anche fare giornalista. Quindi a me questa, diciamo, questa cosa un po' cinica appunto, il vecchio giornalista... Ma il cinico non è adatto, il cinico non è adatto a questo mestiere. Ecco, io direi di no, infatti, no? Penso che in realtà, soprattutto per chi va sul campo, no? Esatto. Che è la cosa più forte. Memento agoriano, dai, che abbiamo cominciato. Io, diciamo, la prima conduzione l'ho avuta, in agora estate c'era Vianello direttore, poi l'agora invernale con appunto Mario Arfeo, direttore generale. Va bene, dai, vediamo agora. A Milano fortissima. Per tremare la Rai in questo modo, che è un palazzo enorme. Pare di capire che la scossa sia molto nel centro dell'Emilia e che poi, diciamo, si sia sentita nel resto del nord Italia. Leggo Rovigo, leggo, insomma, tutta la zona del Padovano. Anche la Toscana, mi segnala Davide Becchetti. Però è stata avvertita fino a Bolzano. Qui, insomma, stiamo andando sempre più in alto. Notizie che vengono da Ferrara con scattati gli allarmi in tutta la città e la gente in strada. La tragedia del terremoto in Emilia, me la ricordo ovviamente. Sì, l'abbiamo fatta in diretta. Ricordavo proprio che c'era Twitter da pochissimo, no? Io conducevo con l'iPad, era un iPad, un po' di... Diciamo, all'inizio non facevo casi nessuno. Invece quella cosa mi aiuta molto perché non avevamo le notizie, come hai visto. E con Twitter per un'ora e dieci, perché poi non abbiamo più parlato di politica, abbiamo più o meno fatto una diretta. Mi sa che tu stavi nella squadra, peraltro. No, no, io sì. Forse la prima persona che hai chiamato, come autrice e come inviata. Così mi avevi detto, ma non so se è vero, però la prima persona che ho chiamato. Ti potrei dire che non è vero adesso? Chiaro che sì. Non si sa mai. Senti, Andrea, torniamo un attimo al libro perché, appunto, la storia di famiglia, una famiglia degli anni Sessanta, tu la definisci unita e complicata. È il libro dedicato a tua mamma e c'è questo episodio, che non so se sia vero o sia finto, che si lega ad Almirante. È vero o non è vero? Diciamo, beh, chiaramente diciamo che lì c'è una mamma che si chiama Isabella, la mia si chiamava Franca. Diciamo che, forse possiamo dire che questa è vera, ma ecco, effettivamente, tanti anni fa, nel 1977, andammo a Londra con la mia famiglia, io avevo 16 anni, e mia mamma era una donna molto passionale, molto antifascista, molto tormentata, insomma, una persona difficile da gestire, no? Casualmente quel giorno stavo io con lei a braccetto nei grandi magazzini di Haros e lo ve la vedo che dice, guarda chi c'è! E io vedo Almirante, di cui lei era un po', diciamo, un piccolo nemico che lui chiaramente non sapeva. Andiamo a salutarlo, dico, ma mamma cosa stai facendo, no? Perché temevo uno scandalo. In realtà mia madre, o quella mamma, una delle due, Franca o Isabella, avevano immaginato che non fosse in realtà il politico, ma fosse un signore che lei vedeva tutti i giorni con il cane in piazza della Balduaca. E quindi era convinta di... E quindi va da lei e gli dice, guardi, allora, senta, ma si ricorda? Ma che è in tanto tempo che non la vedo! Veramente, signora, io... Intanto, donna assunta, la moglie portava via Almirante. Ma no, ma scusi, insomma, si danno la mano e se ne va. E mia madre, poi, io gli dico, mamma, ma che hai fatto? Che ho fatto? Ma questo non era il signore del cane? Ma come? Era Almirante, Almirante, non ci posso credere! E diventa una serata terribile. Io mi taglio la mano, gli ho dato la mano! Successa una cosa terribile. Siccome la vita è strana, il giorno dopo lo ritroviamo a... A Londra sempre! Sempre a Londra, a un museo, e lo vediamo. Cerchiamo di non farglielo vedere a mia madre, invece lei lo vede e dice, sai che faccio? Adesso glielo vado a dire. Va da lui e gli dice, guardi, signore Almirante, ieri io gli ho dato la mano, ma io in realtà pensavo che lei fosse una persona e io mi vergogno di averle dato la mano. E lui rispose, invece per me, signora, è stato un oro, onore. E allora mia madre, da allora, inizia a dire, no, che figura terribile! E tutta la vacanza è stata funestata da questo doppia cosa del suo rivale politico che però poi gli aveva dato un po' una lezione. Doveva essere una donna davvero simpaticissima, oltre che molto intelligente. E io vorrei aggiungere una cosa, tu hai dedicato questo libro a lei, a mia madre Franca, che mi declamava l'idia da bambino e mi ha regalato il fulgore delle battaglie e la meraviglia delle parole. E, da dica, molto bella. Va detto questo, che mamma Franca non c'è più da quest'estate. E quest'estate al suo funerale c'erano due signore, due crocerossine. È vero, nero. Perché tua mamma era una volontaria della Croce Rossa e oggi le abbiamo invitate. Giulia Antonia Marra e Antonina Casella, che bello avervi qui. Grazie. 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 Buonasera a voi. Buonasera. Sai che bella cosa sia. Che bella cosa sia. Io per te. Eh, beh, perché è una cosa, diciamo, che devo dire il fatto che poi sono venute al funerale di mamma, all'ultimo secondo, insomma, è stato un grande onore, perché so che mamma quanto è stata importante per lei la Croce Rossa, ha dato un grande senso, diciamo. E quanto è bello testimoniare il cuore delle persone. Io vi ringrazio di essere qui. Grazie. Lo vogliamo dare un ricordo di mamma Franca? Sì. Allora. Lei se lo ricorda? No, io non me la ricordo perché mi sono diplomata da poco. Però abbiamo sempre sentito parlare molto bene di lei, soprattutto dell'amore e della dedizione con cui si prendeva cura dei suoi pazienti e proprio questa è stata la grande eredità che ha lasciato a noi. È vero che adesso non la vediamo più fisicamente, però i suoi insegnamenti e tutto quello che ci ha lasciato lo percepiamo quotidianamente e cerchiamo di metterlo in pratica emulandone l'esempio. Il nostro motto è ama, conforta, lavora e salva e in lei era particolarmente percepibile in tutte le azioni, in tutte le parole che fondeva soprattutto nei malati di sclerosi multipla, perché se ne prendeva cura in maniera particolare. Grazie davvero, insomma, sono ricordi che arrivano. Che cosa ti ha dato la mamma, la cosa più importante che ti ha trasmesso? La profondità. Diciamo che mia madre è quella che sicuramente... Aveva gli occhiali, no? Anch'io adesso non ce l'ho più perché sono vecchio e ho fatto la cataratta. Non perché ho fatto l'operazione, però diciamo che ho sempre avuto gli occhiali... Sono un po' il simbolo, no? Gli occhiali, cioè la parte diciamo un po' più profonda, no? Questo non vuol dire che papà invece mi ha dato l'inonia, mi ha dato la voglia di fare. Ecco, quindi chiaramente i genitori danno ognuno. Loro le mamma mi ha dato sicuramente anche una, come dire, una profondità che a volte è complicata, eh? Perché... E certo, perché comunque è l'evento... Che però, che però, che però, insomma, è un pezzo importante... È uno sturm undrang emotivo che però è bello averlo dentro il cuore. Sì. Una parola sulle volontarie che fanno un lavoro importantissimo. Meraviglioso. Vogliamo aggiungerla? Noi siamo le infermiere volontarie della Croce Rossa italiana. Adesso abbiamo la campagna di reclutamento che scade il 30 novembre. Possono partecipare tutte le donne dai 18 ai 55 anni. C'è un corso che dura due anni, mentre chi è... Sì, un corso di formazione in cui si fanno proprio gli esami di anatomia, di psicologia dell'emergenza. Sì, sì. E chi è già sanitario di professione, invece, fa un corso, diciamo, un po' più breve. Va bene. Grazie per la vostra testimonianza. Andrea, storia immaginaria della mia famiglia. Che dentro ci stanno anche i nonni, perché i nonni sono, secondo me, le radici delle nostre famiglie. A volte ce le dimentichiamo. E io ho voluto ritrovare dei misteri dei miei due nonni, quello antifascista e quello, diciamo, invece, fascista. Come capitava in tante famiglie italiane, no? Il fascista, l'antifascista... Che però, poi, negli anni Sessanta, era diventata una grande rimozione, no? Collettiva. Un paese che stava, in quel momento, a, come dire, crescendo. E io ho ritrovato un po' di fili, alcuni non ce l'avevo, quindi me li sono inventati, di un piccolo mistero di tutti e due. Mio nonno, che è finito a Via Tasso, e l'altro, invece, che aveva una mamma misteriosa di cui non sapevamo niente. Mi ricordo la lettera da Via Tasso di tuo nonno, come no, me lo ricordo. Sì, perché lui lasciò un biglietto scrivendo Mi hanno preso, avvisate la mia famiglia, quando lo portavano via. Via Tasso, ovviamente, era dove venivano i nazisti, portavano i prigionieri politici, e purtroppo molti non ne sono usciti. Grazie davvero, Andrea, è stata, come sempre, un'emozione stare con te.